ho fatto un saluto a bovirati e a giro toffalo anch'io io l'ho toccato l'ho toccato e lui l'ho visto di Battista un po' eccitato perchè l'hai toccato tu no invece era contenta cazzo la gente mi abbracciava eh no io non sono riuscita niente dove sono andati loro? dove hai garnato di Battista? ma dove sono andati? la taverna è ancora lì? eh Paola non è passata partì partì Jessica dov'è? vieni che andiamo a vedere un attimo dentro c'è Paola a taverna c'è la taverna? sono qua ma io sono basso non è giusto devo farcela devo farcela chi c'è la taverna qua? sono lei ho un zizio dato attaccati a me sicuramente l'hai in piazza c'è il rosso questo è il rosso questo è il rosso è la fiducia senti tu riesci a darmi in faccia? eh ma un attimo quando si gira già il rosso un attimo due secondi ci sono due due sono due due e adesso non si ci serve ma sono due due quando ti si c'è la guardate sono due due durante i giorni ci sono due poi posso dare con il Birchis Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.